A questo punto manca solo questo verdetto. Qual è la quarta che giocherà la Champions? Noi o loro? Forza ragazzi! Pronto a crossarla, la mette bene per Milinkovic che guadagna al fondo il cross al centro! Sciupa una palla-goll imbarazzante Luis Felipe. Attenzione ancora palla viva, il tiro! E c'è il gol della Lazio! Il tiro deviato! Che sfortuna ragazzi! Il tiro lo prende in faccia e spiazza Andanovic. Palla buona, Icardi, se ne va solo, il tiro! Sciupa la palla dell'1-1! Felipe Anderson parte, Milinkovic, palla giro, palo! Palo a Samir, fermo! La rincorsa di Brozovic, palla dentro, il colpo di testa, salvataggio! E' gol! 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 Danilone! Danilone! 1-1! 3 contro 3, pericolo! Attenzione a Lulic! Lulic immobile, Felipe Anderson che se ne va! Entra in area, è solo, il tiro! E' gol! E' questo ce l'hanno loro! Palla per Candreva, Candreva la piazza cercando Icardi, il colpo di testa, Pericic, carica al destro, palla in tribuna! Giocancelo, cerca di trovare il Varco, lo trova, Lulic in difficoltà, cross morbido, secondo palo, il colpo di testa! Di Pericic, la palla che va a lato, 25, mettiamola dentro adesso, 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 Brozo, calcia male, scivola! C'è un calcio di rigore! Calcio di rigore! Fallo netto! C'è il fallo netto di Marusic! Brocchi, che va personalmente a vedere al monitor posizionato a bordo campo! Perfetto, sì, 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 sì! Dice! Non è rigore! Stracoscia, calcio a lungo, il tentativo di Vessino, Eder, la palla buona per Icardi, e questo qua è rigore! E questo qua è rigore! E questo qua è rigore! E questo sì! E vai al VAR adesso! Parte Icardi, il tiro! E gol, e gol, e gol, e gol! E gol, e gol, e gol! Il bomber dei bomber! Il bomber dei bomber! E sono 100! E sono pari in classifica cannonieri! E manca uno sforzo! Un gol! Gara che rimane aperta! Brutto fallo! Di Lulic, cartellino giallo, espulso! Espulso! Lazio in dieci! Brozzo dall'angolo! Parte la traiettoria! Palla dentro, schiacciata! E gol, 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 e gol! E gol, e gol, e gol, e gol, e gol! È di Vecino, lo stacco vincente, il gol del 2-3. Vai a prenderlo, dice Spalletti, che non è finita. Vai a prenderlo, che non è finita. Dieci secondi, Champions League! L'Inter in Champions League!